Buonasera telespettatori di Pianeta Oggi Reporter e buonasera telespettatori delle tv e radio terrestri. Siamo qui a Mussolente per la conferenza dibattito organizzata dal gruppo ufologico del Veneto con il presidente Silvano Ferronato sulla presenza di entità extraterrestri che da tantissimi anni visitano il pianeta Terra. Grazie signor Ferronato di essere presente e di questa intervista. Grazie a voi. Questo gruppo ufologico del Veneto quando è nato e perché è nato? È nato circa 20-25 anni fa, all'incirca, per un'esigenza mia in modo particolare e perché poi facevamo anche delle trasmissioni su delle radio e ho sentito che la gente si interessava e ho detto perché tenere per me tutte le cose che vengo a sapere e non divulgarle, non parlare anche con altri. Quindi abbiamo costituito questo gruppo ufologico del Veneto, abbiamo anche un sito che si chiama www.ufoveneto.it, quindi anche semplice da memorizzare e la gente lo sta guardando, ci sono filmati, ci sono delle esperienze raccolte nel nostro territorio, nel Bassanese in modo particolare, ma non solo nel Bassanese, anche in Croazia dove vado a fare le ferie. Quando ci sono novità, ne approfittiamo per accapararci queste notizie che riguardano gli alieni ovviamente di UFO. Ma una domanda che mi sorge spontanea è questa. Una persona pensa di aprire un sito internet dedicato agli UFO perché ha avuto direttamente contatti e quindi vuole condividere questa esperienza con altre persone che hanno avuto questi contatti. Lei ha avuto direttamente contatti con questi esseri di altri pianeti oppure è stata un'esigenza data proprio dalla volontà di informare gli altri che ci sono entità che visitano il pianeta Terra. Io non ho avuto nessun contatto per quanto riguarda gli oggetti volanti non identificati, però mi sono sempre incuriosito molto anche perché sono convinto che non possiamo essere soli noi in tutto l'universo. Per questa ragione mi sono adoperato per far sì che altre persone che hanno l'occasione e l'opportunità di incontrare questi esseri possano portare la loro esperienza a contatto con altri. Quindi in questo caso mi sento da tramite. A me non piace questo. A me piace di più il dialogo. Senta, 25 anni sono tanti. 25 anni di esperienza in un argomento e un tema di questo tipo che è comunque centrale anche per le Nazioni Unite e per i governi a livello internazionale. È un'esperienza rilevante. Qual è stata la risposta della gente alla presenza di un gruppo ufologico in Veneto e secondo lei i Veneti hanno una familiarità con queste presenze? Beh, intanto devo dire che l'esperienza del gruppo è nata con poche persone. È nata discutendo anche in una radio con altri amici dove c'era anche uno che si chiamava Massimo Bonella che veniva a fare la trasmissione assieme a me. E lì abbiamo avuto i primi contatti con Giorgio Bongiovanni perché io prima non lo conoscevo, non avevo nessuna idea di chi fosse Giorgio Bongiovanni. E però, voglio dire, anche i Veneti, ho visto... beh, il mio gruppo ormai ha superato i 500 iscritti, quindi non è un gruppo di poco conto, è un bel gruppo. L'interesse c'è perché hai visto anche stasera, vabbè, c'è la particolarità che arriva a Giorgio e quindi è evidente che attira molte persone. Però anche quando facevamo noi, poco meno di adesso c'erano. Io questo incontro di oggi non l'ho tanto divulgato al di fuori del mio gruppo perché avevo paura di lasciare fuori troppe persone e perché avevo un locale piuttosto stretto. Se avessi avuto un locale grande, allora avrei fatto anche i manifesti appesi in giro per la città, purtroppo. E relativamente al contatto dei Veneti con queste presenze? Beh, credo... al di là che poi, come in tutte le cose, esempio, lo dirò anche quando presenterò Giorgio Bongiovanni, c'è chi ama Giorgio e chi lo odia, proprio. Non c'è uno che sta tiepido in queste cose qua. I Veneti sono così. C'è chi dice, quando sentono uno che parla di aver fatto un avvistamento, quanto vinghe tu bevuo, me sa che ti si imbriago come una... Vabbè, è giù... oppure, mi raccomando, quando cattete a fei a droga, cerca di usare una cosa più leggera perché qui è una categoria molto troppo pesante. Questa è di quelli che sono dei trattori, mentre ci sono tante persone che si lasciano convincere facilmente e anche coinvolgere facilmente, anche emotivamente coinvolgere facilmente. Lei pensa che l'esistenza di un gruppo ufologico in un territorio, come il Veneto, estremamente legato alla produttività, all'impresa e ai soldi, possa essere un messaggio di apertura, di pace? Cioè, possa essere l'espressione di un gruppo che, come altri, che sono a favore della vita, ha anche questo gruppo a favore della vita? Beh, io sono convinto che facciamo un'educazione alle persone. È indubbio questo. È quella di tentare di dire, vabbè, i soldi servono, perché su tutto serve. Per avere questo teatro ho dovuto pagare, non è che te lo danno gratis. Niente è gratis. Però il surplus bisogna imparare a rinunciare. E, difatti, uno dei messaggi che lancio io ogni volta che faccio il convegno, dico questo. È legato sempre al nostro pianeta, al povero pianeta Terra. Ricordiamoci che nel nostro pianeta non l'abbiamo ereditato dei nostri genitori, ma l'abbiamo in prestito dei nostri figli e dei nostri nipoti. Per cui cerchiamo di operare perché il pianeta venga il meno danneggiato possibile, anche se questa cosa qui passa attraverso pochi, ma in molti lo stiamo danneggiando, perché poi la circolazione automobilistica, quello che sono i mezzi di aviazione, eccetera, i aerei e altro, inquiniamo tantissimo. Il cercare e il distruggere un'area pari all'Austria ogni anno, nella più grande foresta amazzonica che abbiamo nel nostro pianeta, credo che noi siamo dei folli, cioè siamo dei pazzi. E io sono convinto anche che questi avvistamenti, sempre più marcati e sempre più presenti, sono per dirci che ormai siamo arrivati a un punto di non ritorno. Ma è interessante nel sentire questo convegno stasera, il fatto che molti di questi avvistamenti sono proprio in queste zone, a Bassano, a Marostica, in questi paesi, in cui una persona penserebbe che forse sarebbe impossibile, strano, che questi esseri di altri mondi così superiori, così forse distanti da noi, si possono effettivamente far vedere. Il fatto poi che ci sono delle persone che sul vostro sito hanno testimoniato che non ci credevano, però sono stati avvicinati da questi esseri, cioè hanno visto le navicelle, e anche questa sera abbiamo sentito queste testimonianze, è veramente una voce incredibile. Incredibile proprio perché è qui, in queste zone, quindi ci riguarda effettivamente. Quindi lei pensa che loro ci stanno trasmettendo la loro vicinanza di amore? Beh, io sono convinto, questo senza dubbio. Ma la cosa più bella è che proprio quelle persone che sono detrattori dell'ufologia all'inizio, se riescono loro ad avere un avvistamento diventano i propagatori di questa energia un po' a tutto il mondo, ma in maniera molto bastarda anche se vuoi, proprio martellante nei confronti di chi non capisce, non vuole capire questo messaggio. E quindi diventano i discepoli più fedeli che io ho, quelli che erano agnostici prima. In pratica questi esseri di altri mondi non vengono sulla terra per attaccarla, come spesso i film di Hollywood in America. Sono stati prodotti e costituiti proprio per lanciare un messaggio di questo tipo, ma grazie a Silvano Ferronato e al suo gruppo capiamo anche questa sera attraverso questo convegno che invece sono esseri di amore che vogliono l'unione tra gli uomini e siamo noi molto divisi rispetto a loro. Grazie Silvano per questa intervista. Grazie a voi. Buonasera. Che c'entrano gli extraterrestri con la religione cattolica e cristiana e con tutte le altre religioni del mondo? Questa è la domanda di questa sera. Siamo qui con Giorgio Bongiovanni stigmatizzato. Giorgio, ti volevo chiedere, qual è la relazione tra gli esseri di luce, quindi le presenze aliene sul pianeta Terra, le tue stimmate e i loro contatti massivi alla popolazione terrestre? La relazione è che la spiritualità, quindi nel mio caso come credente in Cristo, Gesù Cristo, ma mi riferisco anche a altre religioni, hanno avuto un contatto con questi esseri. mi spiego meglio, questi esseri nelle nostre sacre scritture si sono presentati come angeli e la cosa fantastica oggi abbiamo capito dalle mie esperienze che sono al servizio di Cristo, cioè loro riconoscono Cristo come entità divina e quindi questa relazione oggi con gli alieni è che questa forma di vita che vive nell'universo non solo è una forma di vita trascendentale spirituale ma anche umana come la nostra, più avanzata della nostra e che questa si manifesterà visibilmente a tutti. Ci dobbiamo preparare. Dopo il 21 dicembre inizia un passaggio ulteriore che il pianeta Terra dovrà affrontare e quindi noi come esseri umani. Da quel momento in poi i contatti che già contattati come te ma anche altre persone comuni possono avere con questi esseri di luce si intensificheranno? Assolutamente sì. Loro mi hanno detto, gli extraterrestri, che si mostreranno a tutti, quindi molto più gente avrà contatti, molti di più vedranno, ci saranno molti più filmati, fotografie, finché tutti avranno questa possibilità di vedere, tutte le televisioni del mondo riprenderanno questo fenomeno. Il passaggio del 21 dicembre non ci sarà la fine del mondo, andremo verso un'era di pace ma sarà dolorosa. Passeranno catastrofi, guerre, terremoti. L'abbiamo voluto noi in parte perché noi non abbiamo scelto la via del bene. Bene, ti ringraziamo Giorgio della tua testimonianza, del tuo messaggio e del fatto che attraverso le tue mani e i tuoi piedi cammina Cristo. Grazie. Buonasera telespettatori. Grazie. 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 Grazie a tutti.